purtroppo è successo purtroppo è successo vladimiro falcone tornerà ad essere un giocatore della sampdoria a partire dal primo luglio ciao a tutti bentornati sul mio canale per di cominciare a parlarne mi dite lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale fatemi sapere con un commento cosa ne pensate di questa notizia beh sicuramente per noi di voce del lecce è una notizia bruttissima falcone è una perdita enorme per la nostra squadra falcone è stato uno degli eroi della nostra salvezza ci ha salvato in una meridio di occasioni forse uno dei porteri più forti mai avuti chiaramente in serie a per quello che ha mostrato quest'anno la sampdoria ha quindi operato il conto riscatto prima chiaramente l'avevamo riscattato a 3 milioni e mezzo la sampdoria aveva il conto riscatto a 4 milioni 750 mila euro questa cifra praticamente poche ore fa è stata ceduta nelle casse del club salentino a poche ore praticamente dalla scadenza il termine per pagare la cifra era la mezzanotte di oggi oggi il 19 giugno e quindi evidente mancavano solo 9 ore per il termine diciamo del del contratto la sampdoria diciamo che è stata furba perché praticamente pagando solo poco più di milioni di euro si è portato a casa un portiere di assoluto livello e sicuramente la sampdoria qualora dovesse decidere di venderlo non avrebbe non faticherebbe nel venderlo chiaramente a una squadra più importante guadagnando comunque un bel po di milioni che per una squadra che in serie b non è proprio in una situazione ottimale che punta alla serie a è sicuramente un innesto molto molto importante ripeto sarà veramente dura adesso rimpiazzarlo abbiamo barbeta la primavera che potrebbe fare il salto ma falcone è veramente stato veramente costante nelle partite è stato veramente fondamentale per me fa male vedendo andare via chiaramente gli auguro il meglio non lo so magari si farà un tentativo per acquistarlo a titolo definitivo sarà dura perché chiaramente il valore del calciatore adesso si aggira sui 5 milioni di euro circa ma sicuramente vedendo la stagione che ha fatto il valore sicuramente salerà molto di più rispetto ai 5 milioni quindi sicuramente tante squadre vorranno accapararselo che dire speriamo chiaramente di poterlo rimpiazzare al meglio come detto gli auguro il meglio perché per noi è stato veramente fondamentale non ci sentiamo in un prossimo video forse lei c'è sempre e un saluto a tutti voi ciao